Vi presento il C64 guitar, non è una cosa innovativa perché già prima di me qualcuno ho avuto l'ispirazione di unire uno strumento musicale a un computer, diciamo che in questo caso qui il Commodore 64 rappresenta un po' la storia, è stato il computer più venduto al mondo, è uno dei primi home computer con cui la gente ha iniziato giocando a conoscere l'informatica, quindi per me poi rappresenta un'icona, quindi essendo appassionato di retrocomputer il Commodore 64 è proprio quella che è l'immagine del computer, poi c'è chi avrà da dire sicuramente agli appassionati della Apple avranno i loro beniamini, ma per me il C64 rimane un mito per le caratteristiche avanzate che già nel 1983 dimostrava di avere. Allora l'ispirazione, questa ragazza americana Jerry Ellisworth è una progettista creatrice di chip per computer autodidatta, nel 2004 ha creato un Commodore 64, nel 2004 Commodore 64 era già retrocomputer, stiamo parlando di un computer dell'83, lei nel 2004 ha praticamente programmato un chip e dentro questo chip ha messo un Commodore 64 con alcuni giochi e tutto quanto è stato messo dentro un joystick. Nel 2004 ha avuto un successone enorme in America e anche in Europa e ne hanno venduti parecchi esemplari, adesso è diventata famosa per questo, anche se nel 2004 i giochi erano già obsoleti, la gente comprava quello che era il ricordo dei primi giochi che aveva fatto e riusciva così a tornare giovane diciamo, nel 2004, adesso siamo nel 2018, quindi se il 64 era retrocomputer nel 2004 fino ad adesso è antiquariato proprio informatico. Torniamo, allora Jerry è appassionata anche lei di Commodore 64, cosa ha fatto? Si è costruita un keytar, lei l'ha chiamato, questo keytar, prototipo di Jerry era fatto da una parte di preamplificazione, un FPGA che è un chip programmabile per pilotare diversi ingressi e uscite, esistono molte schede di FPGA, quello utilizzato da lei era un modello abbastanza complicato e abbastanza costoso, comunque con l'FPGA si ha a disposizione un microprocessore con potenze di calcolo non indifferente e con questo FPGA pilotava quello che è il 6581. 6581 per quelli che non lo sanno è il SID ed è il chip audio cuore del Commodore 64. Il Commodore 64 era praticamente una macchina già multiprocessore, aveva la CPU un 6502, poi aveva un chip dedicato solo all'audio, questo SID 6581 e poi c'era il chip video. Era già una macchina a tre processori, quindi stiamo parlando del 1983, quindi per questi giochi avevano queste prestazioni, aveva i colori, aveva il SID in grado di pilotare tre canali audio contemporaneamente, non era stereo perché allora stereo, comunque ancora adesso il SID fa per la sintesi, essendo un chip audio dedicato alla sintesi FM, fa il suo discreto lavoro se uno volesse utilizzarlo. Quindi lei cosa ha fatto? Ha preso il chip dal Commodore 64, si è fatta un circuitino, l'ha collegato a questo FPGA e poi si è fatta un preamplificatore per collegare. Allora, la mia idea è partita è partita dalla parte meccanica, quindi ho fatto, come potete vedere, ho unito un manico di un basso a un Commodore 64. È stato parecchio difficile soprattutto perché bisogna rispettare la lunghezza d'onda, cioè la lunghezza, la distanza delle corde perché sennò non si riesce i suoni, cioè non si riesce ad accordare. L'originale è questo, come vedete è simile al mio, cioè il mio è simile al suo. Se andate su YouTube potete vedere lei che descrive il progetto, dà solo delle descrizioni generiche, fa vedere, non fornisce né lo schema elettrico, dà un'indicazione di massima di come ha fatto lei il lavoro e si prometteva successivamente di pubblicare tutto quanto, se non che gli è stato rubato. Qualcuno è entrato in casa sua e gliel'ha rubato. Quindi praticamente non è più stato ritrovato e il progetto è rimasto soltanto questo video che potete andare a vedere su YouTube, perché è vedere come funzionava il suo prototipo. Come potrebbe funzionare, cioè come funzionava? Qui non andiamo a vedere proprio la teoria con frequenze e forme d'onda perché entriamo troppo nel tecnico. Qualcuno potrebbe essere chiara, la cosa per molti potrebbe essere noioso, quindi semplicemente diciamo che ogni nota musicale corrisponde a una determinata frequenza. La frequenza campione è stata stabilita a 440 Hz per il La e poi di conseguenza le ottavi superiori e inferiori che vanno in toni e semitoni a cambiare. Per esempio, qui abbiamo un esempio di frequenze da 256, 272, 288, 300, sono tutte le frequenze, ogni frequenza corrisponde a una determinata nota. Quindi cosa è stato fatto? E' stato fatto, nei bassi classici vengono messi dei microfoni per catturare i suoni. Qui non è stato possibile farlo, prima di tutto perché si rovinava l'estetica completa e poi perché i microfoni sono tutti quelli di lunghezza superiore, cioè di larghezza superiore a quello dello spazio dedicato dal Commodore 64. Quindi è stato trovato un escamotage di utilizzare delle capsule piezoelettriche. Le capsule piezoelettriche sono quelle che si trovavano negli orologini, nei giocatori. Sono degli altoparlantini, diciamo, che funzionano in maniera piezoelettrica. Sono dei trasduttori, possono essere usati come microfoni e in questo caso sono usati generalmente come piccoli altoparlantini dove è richiesto poco spazio, perché sono molto sottili. In questo caso io li uso come microfono. Questi sensori vengono posizionati al fondo, sul ponte, per problemi di spazio vengono tagliati, viene rilasciata una striscia e con della guaina termorestringente ho protetto tutto quanto. Quindi ho creato quattro microfoni, uno per ogni corda, in modo di poter successivamente recuperare la frequenza con cui oscilla la corda. Allora, quindi cosa succede? Forse sto andando un po' troppo nel tecnico, comunque qualcuno... Va bene, semplicemente vi dirò che ogni microfono cattura la frequenza generata da ogni corda. La frequenza, abbiamo detto, che corrisponde a una nota musicale. Quindi questo circuito si occupa semplicemente di amplificare la forma d'onda perché questi microfonini danno un segnale molto basso, lo amplificano, lo puliscono, danno una forma d'onda perfetta e la mandiamo a un Arduino. Su questo Arduino cosa abbiamo messo? Abbiamo messo un software che si occupa di trasformare una frequenza ben specifica in una forma d'onda, in una nota musicale. Quindi quando la corda uscillerà a 440 Hz con una tolleranza di 2 o 3 Hz, perché poi se no si rischia di andare nella nota successiva, l'Arduino riconoscerà un La e di conseguenza genererà un suono corrispondente al La. Questo, diciamo, come progetto è stato fatto riutilizzando parti di software già scritto, come succede nell'informatica. Ho riutilizzato un software che avevano fatto per Arduino, che serviva per tarare la frequenza di un basso, quindi invece che tarare la frequenza l'ho usato per convertire la frequenza in note musicali. Quindi gli algoritmi sono abbastanza complessi, ma io semplicemente ho preso la funzione e gli ho detto controlla, invece di controllare quella frequenza lì, se quella frequenza lì dammi la nota. Il software sintetizzatore. Allora, inizialmente il progetto, come abbiamo detto, era previsto di utilizzare un SID. Anch'io volevo utilizzare un SID e pilotarlo con l'Arduino, perché in fondo si può fare. Il SID, abbiamo detto che è questo chip che utilizzava il Commodore 64 per generare i suoni, tre canali audio, da cui possiamo scegliere tra quattro forme d'onda, che sono sinusoidale, onda quadra, dente di sega, e rumore bianco. Per chi conosce un po' di sintesi FM, con queste quattro forme d'onda, noi possiamo generare quasi tutti gli strumenti. Possiamo, il suono tipico, il suono a onda quadra è molto forte, classico, di quello dei giochi, la sinusoidale è molto più morbida come forma d'onda, il dente di sega è una via di mezzo tra le due, e il rumore bianco è il rumore delle esplosioni, il rumore dei colpi di batteria. Il 6581, oltre a generare queste forme d'onda, permette di controllare l'inviluppo. L'inviluppo sarebbe come la forma d'onda, cambia nel tempo, nel senso parte veloce e poi si smorza, oppure parte lentamente e si smorza in maniera... ci sono vari modi di variare queste curve, con diverse complessità, utilizzando la forma d'onda, miscelandole fra di loro, e combinandole con questo controllo, si riesce a emulare qualsiasi strumento musicale. Quindi 6581 può emulare qualsiasi strumento musicale, sono riusciti a fargli emulare anche la voce umana. Adesso ci sono chip molto più complessi, che hanno una potenza maggiore, ma il 6581 faceva il suo discreto lavoro. Allora, torniamo noi. Utilizzare il 7581 sarebbe stato da collegare il circuito e mandargli la nota, e lui la suonava a seconda di come lo configuravo. qui c'è anche lo schema di come... questo al laser? No, non lo so. Comunque questo è lo schema di come collegarlo all'Arduino, quindi sarebbe stato da... Però il problema era che io qui ho quattro corde, e il SID ha solo tre note contemporanee, perché ha tre oscillatori. Quindi mi sarei trovato in difficoltà, avrei dovuto... Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un software che emula il SID e l'abbiamo messo sull'Arduino. Quindi l'Arduino, oltre a decodificare la frequenza, gli facciamo anche generare i suoni. E li genera esattamente come li genera il SID, con la stessa fedeltà. Quindi abbiamo risparmiato ancora un chip. Dimmi. L'effetto del glissato non si può fare. Allora, lui lo fa abbastanza veloce. Diciamo che più sali di frequenza e più l'Arduino ha difficoltà. Quindi se lo fai con delle note con frequenza bassa, riesci ancora a farlo abbastanza velocemente. Più sali di frequenza e più lui ha difficoltà. Ci varrebbe maggiore potenza di calcolo. Il glissato è uno dei problemi per cui dovresti simularlo con una leva o qualcosa del genere. Come faceva? Dovresti trovare un modo. Infatti, più avanti lo spiego, questo qui è un progetto iniziale, poi si possono procedere a fare tante altre cose. Per esempio, oltre a pilotare il 6581, posso metterci un'interfaccia MIDI e pilotare uno strumento MIDI con una fedeltà ancora maggiore. Glissare sarebbe da provare a passare velocemente, mettendo sopra e vado velocemente giù. Se l'Arduino riesce a starci dietro, dovrebbe farcela. Quindi abbiamo usato un sintetizzatore interno, un progetto di sintetizzatore, anche quello lì si trova facilmente, di pubblico dominio, si può scaricare. Quindi al posto 6581 abbiamo messo dentro il sintetizzatore. La tastiera. Allora, la tastiera è comoda, riutilizziamo la tastiera del Commodore 64. L'idea è comunque che con i tasti funzioni si cambia la forma d'onda. Quindi abbiamo col primo la sinusoidale, la seconda dentro di sega, la terza l'onda quadra, e il quarto rumore bianco. Quindi quando suoni qui, se mette il rumore bianco, senti il tipo delle esplosioni. Poi, con altre combinazioni di tasto, si varia l'inviluppo, quindi attack, decay, sustain, release, della forma d'onda. Cos'è il problema? Il problema è che l'Arduino ha finito i piedini. Perché, cioè, quindi, non tutti i tasti sono stati abilitati. Quindi sono stati abilitati i quattro tasti di funzione e i primi due. e i numeri sono stati utilizzati per suonare direttamente le note. Quindi si può suonare sia con le note così che con la maniera classica. lo schema. Anche l'ho messo, però, tutto questo verrà poi reso pubblico con un progetto. Chiunque potrà scaricarsi lo schema elettrico. È stato fatto anche lo stampato e i sorgenti dello stampato. Quindi, se volete, potete anche farveli fare online. Perché ormai basta mandare il file e vi fanno lo stampato e ve lo mandano a casa. Quindi è stato reso tutto pubblico. Diciamo che non è una cosa commerciale. È proprio per diffondere un po' la voglia di mettersi a fare qualcosa di diverso. Niente vieta di prendere questo circuito, collegargli una, solo una chitarra normale e provare a lavorare con una chitarra normale utilizzando il segnale del microfono. Logicamente, se abbiamo degli accordi, lui potrebbe interpretare male le note. Bisognerebbe cercare di mandargli sempre la nota singola. Perché se no non si riesce a discriminare. Non ce la fa. Soprattutto potrebbe farcela se avessimo maggiore potenza di calcolo. Però mi sembra che al microprocessore dell'Arduino gli stiamo già facendo fare fin troppe cose. Allora, il costo è abbastanza ridotto di questo schema perché sono pochi componenti, sono quattro operazionali, un chip dell'Arduino che costa sui tre dollari. In tutto stimerei un 15-20 euro di spesa se uno se lo volesse autocostruire. Rispetto al progetto iniziale di Jerry è molto più economico ma soprattutto permette di studiare sia la teoria musicale sia come lavorare con le forme d'onda e c'è tutta la parte di progettazione che può essere allora il futuro cosa possiamo aggiungere al progetto una volta perché poi io pubblicherò il progetto lo farò evolvere aggiungerò delle cose però quando sarà pubblicato che cosa si potrà fare? Si potrà aggiungere un'espansione MIDI si aggiunge facilmente basta due linee di codice e si fa pilotare qualsiasi interfaccia MIDI quindi qualsiasi espander MIDI si può essere collegato e fatto suonare al posto del sintetizzatore interno è da prevedere una parte di sequencer la memoria dell'Arduino è poca però si potrebbe già fare dei mini sequencer per tenere una base musicale sotto anche di batteria e suonarci sopra effetti vari come dicevi tu il glissato oppure altri effetti sono da aggiungere sono da prevedere e sono da fare tutti via software qui fa tutto il software una volta che tu hai la forma d'onda l'hai decodificata decidi poi te come comportarti a seconda se varia o varia velocemente utilizzare il bluetooth collegarci all'Arduino un bluetooth audio e trasmettere invece che col cavo in bluetooth è un'idea anche questa cambiare piattaforma l'ESP32 una versione molto più potenziata di Arduino con software wifi anche quello di basso costo stiamo parlando di 5 dollari a scheda e ha molta più potenza e anche i convertitori analogico-digitali che ha all'interno sono a 16 bit invece quelli dell'Arduino sono a 10-12 bit mi sembra non lo so comunque la conversione è molto più accurata ho finito avrei voluto farvelo sentire ma purtroppo se la scheda si sono bucciate la parte preamplificatore perché tornando indietro la parte preamplificatore è fatta con FET che sono transistor e fetto di campo sono molto delicati per le scariche elettriche e quindi stanotte alle 3 di notte mentre mettevo a posto ho fatto saltare la parte preamplificatrice quindi non posso farvelo sentire quanto prima comunque sarà pubblicato tutto quanto il progetto in modo che chi vuole potrà cominciare a scaricarselo e a fare degli esperimenti vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti grazie Grazie a tutti